e riviusi a sml salve buongiorno 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 allora io volevo un parour blu elettrico come le mie unghie unghie scusi e volevo perché è tre anni che cerco questa questa collana non la trovo questo colore non lo trovo in giro mi puoi aiutare per favore grazie ma certo signora allora come collana io le volevo far vedere questa opzione che secondo me per lei può andare bene allora è una collana molto semplice però allo stesso tempo elegante guarda guarda che bella che è signora è bellissima è proprio una bella collana è vecchissima spero le piace poi in corredo abbiamo gli orecchini eccoli qua ecco gli orecchini che sono questi allora eccoli qua aspetta che mi si sono intrigati scusi allora come orecchini ne posso fare abbinare questi qua che sono stupendi sono proprio belli 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 e poi il bracciale possiamo mettere questo qua che praticamente si apre e poi lei lo mette così capito come è molto bello eh questo qua adesso adesso mi dica lei se le possono piacere o no beh dai insomma vediamo questa collana mi faccia vedere sì la collana è bella però è anche carina con queste rosselline ma io ho una serata di gala e mi serve una cosa un po' più un po' più un po' più elegante insomma un po' più fashion magari con dei cristalli così perché ho un vestito un po' sai un po' un po' raffinato e questo qua anzi questa mi sembra una cosa un po' più da giorno no per la settimana ecco e io volevo una cosa un po' più un po' un po' più un po' più fashion ecco e se mi può far vedere qualche altra opzione almeno così posso decidere ecco ah ma certo ma certo signora ma certo non si preoccupi adesso io le faccio vedere la chicca però la verto eh guarda che costa un po' di un po' di soldi perché è pura picciotteria questa quindi io adesso le faccio vedere questo articolo che ci è appena arrivato ed è molto molto bello perché veramente c'è ragazze signora guardi qua cioè lei può vedere la straordinarietà di questa collana in puro svaroschi guardi i dettagli sono veramente veramente belli è anche molto leggera però se può vedere questa ha i super svaroschi abbiamo anche gli orecchini abbinati che sono questi qua cioè guardi quanto sono belli cioè sono bellissimi signora cioè eccoli qua questi sono gli orecchini e l'avviso che farà un figurone lei farà un figurone con questi con questi orecchini come bracciale sempre in svaroschi abbiamo questo qua che c'è le perle bianche e blu elettrico molto carino che questo è super elasticizzato quindi lei lo mette così ed è a posto adesso mi dica lei insomma se le può piacere oh mio dio no no questa qua la devo prendere no questa sì non voglio badare spese però devo fare un super figurone quindi mi dica quanto costa tutto il corretto perché insomma a me piace la voglio comprare costi quel che costi ma io la compro non mi interessa la voglio comprare allora le dico subito allora la collana viene a 35 euro la collana 35 euro gli orecchini vengono a 15 quindi facciamo 35 eh sono eh sì 35 sono 50 euro e più il braccialetto viene viene 8 euro le faccio 8 euro quindi con 58 euro lei si porta a casa questa bellissima le dico che è pura bizotteria va bene ok sì 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 la voglio comprare sì 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 adesso le do i soldi ok le do i soldi ecco ecco tenga il bank o meno tenga il bank o meno benissimo un attimo che le faccio il conto allora abbiamo detto collana 35 orecchini 15 e il bracciale 8 ok sono 58 euro ok sì 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 tieni tieni ecco 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 dai dai voglio andarmeli a provare subito me li dia me li dia me li dia ecco grazie grazie arrivederci arrivederci bene bene oggi abbiamo fatto i soldini adesso adesso ci penso io chiamare la responsabile pronto ascolta sì pronto ascolta guarda che mi devi dare l'aumento perché ho venduto ti ho venduto il coso in cristalli di Swarovski ma ma quale carico il cristallo di Swarovski ah ok l'aumento vuoi va bene dai va bene ne riparliamo quando torno ok perché adesso sono via per affari tornerò la prossima settimana ok ok sì vai sì 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 l'aumento 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 addio in l'aumento e l'aumento qui l'aumento l'aumento Grazie a tutti.